Mi chiamo Gerardo Petta, sono l'attuale presidente del Comites di Zurigo. Tra i progetti portati avanti dal nostro comitato, venne uno su base triennale, che riguarda una borsa di studio che viene assegnata a ricercatori, dottorandi, presso un Ateneo in Svizzera. Nel 2021 è stato individuato tra queste eccellenze un ricercatore della Facoltà di Matematica. Questo riconoscimento è sicuramente un motivo di orgoglio per chi l'ha ricevuto, ma altrettanto per la comunità italiana qui di Zurigo e indirettamente anche per il Comites che ha favorito questo progetto. Grazie per la visione!